La sfida di metà classifica tra Cannara e Gavorrano sorride decisamente di più agli ospiti che si impongono per 1-0 grazie al gol di Jukic nella ripresa. Per il Cannara tante le recriminazioni, a partire dall'espulsione di Menchinella nella ripresa, fine a due rigori negati, uno per tempo, che hanno acceso le polemiche e le proteste. La cronaca. Al quattordicesimo prima occasione per gli ospiti con la Mioni che prova a sorprendere Battistelli su punizione, ma l'estremo rosso-blu è attento ed allontana il pericolo. Al ventesimo Menchinella serve di precisione Fastellini, fermato da una precisa uscita di Salvalaggio. Al ventisettesimo Cardarelli in proiezione offensiva viene atterrato in area di rigore da Berardi. Per Negrelli della sezione di finale Emilia è simulazione e così scatta il cartellino giallo per l'attaccante rosso-blu, immagini per la Moviola in studio. Alla mezz'ora Bruni lascia partire questo fendente, ma Battistelli controlla la sfera che si spegne di poco fuori. Al trentaduesimo Mastini serve bomber yuki cinare di rigore, ma il bomber toscano spreca clamorosamente. Termina così un primo tempo sostanzialmente in equilibrio. Con le riprese del montaggio di Leonardo Antonelli passiamo alla ripresa. Non passa nemmeno un minuto e Colombi di testa vola più in alto di tutti sulla punizione di tre quattrini, ma la sfera si spegne di un niente al lato della porta difesa da Salvalaggio. La partita vive una fase di stallo fino al ventisettesimo. Poco prima della mezz'ora, di fatti, Menchinella entra così su Jukic e per il direttore di gara l'intervento del cedrocampista di casa è da cartellino rosso. Le proteste del Cannara sono copiose e costano l'espulsione anche a Racichini seduto in panchina. Gli ospiti approfittano della superiorità numerica e dal trentacinquesimo il Gavorrano passa in vantaggio. Crifoni è entrato da appena due minuti, la piazza dà la distanza. La sfera si stampa sulla traversa ma l'azione non è finita. Infatti il più veloce da arrivare sul tapin è Jukic che non si lascia sfuggire l'occasione e sigla così il gol dell'1-0. Al quarantaduesimo azione offensiva per il Cannara con Goretti che viene però fermato così dall'ex Capozzi in area di rigore. Protestano i padroni di casa ma per il direttore di gara è tutto regolare. Allo Spoletini finisce così Cannara 0, Gavorrano 1. Un'espulsione molto generosa e forse due rigori negati al Cannara? Adesso sul rigore di Cardarelli all'inizio non solo ha monito, evidentemente ha giudicato che avesse simulato, eravamo lontani. L'espulsione come dici tu è molto generosa perché comunque un fallo, seppur è stato un fallo abbastanza con impeto, però diciamo è arrivato a 70 metri dalla nostra porta su una partita che era totalmente calma e tranquilla. È normale che poi la condizione, è normale che poi subentra il nervosismo. Poi c'è stato sì l'episodio su Goretti che è una piccola trattenuta di può essere stata, ma è stato l'atteggiamento dell'arbitro che ha un pochino infastidito dall'inizio, ha usato un pochino delle volte dei metodi un pochino diversi su qualche fallo. Però al di là di tutto anche gli arbitri possono avere le giornatacce, quindi noi dobbiamo essere però bravi a mantenere i nervi saldi, purtroppo a seguito dell'espulsione c'è stata anche l'espulsione della panchina di Raccichini, più Cardarelli che in quinta munizione salterà Scandicci, quindi andiamo a Scandicci in uno scontro diretto con Cardarelli, Raccichini e Menchinella fuori. Certamente con la superità numerica siamo riusciti ad alzare un po' il baricentro, siamo riusciti a fare delle occasioni e in una di queste siamo riusciti a passare in vantaggio. È chiaro che loro si soffriva soprattutto sulle palle lunghe e sulle seconde palle perché avevano rispetto a noi una fisicità diversa. Comunque se ho fatto un'ottima partita penso che il risultato sia anche giusto.